Siete seduti in avanti e indietro, anche i fotografi si portano via le palle, molto bene, andate via, ormai ci fosse, Pepe dice, come con Fabricio che si è andato qua a cagare, e dicono, avete fatto se, come si chiama, questa fotografia è in tante di bravi, allora se ci può cominciare, nel nome del padre e del figlio e dello spirito santo, amico. Allora, io penso che la benedizione originaria dell'uomo, 2, 3, 4 milioni fa, la benedizione originaria, cioè questa energia vitale umana, non potrebbe essere che amore, onestà, comunicazione, generosità, non so, pensate ancora oggi l'energia solare, non è che cambia, arrivano dei raggi sporchi, l'energia della botanica, tu butti ancora i semi di grano, per esempio, perché viene la spiga, non viene qualcosa di velenoso, la spiga, la farina. Secondo me Pepe ha mantenuto quello che è la benedizione originaria, cioè, umano vuol dire amore, cioè restare umani, quel messaggio, anche le vittorie da ricordo, mi sembra venga dalla Palestina, questo ragazzo mi sembra capito, restiamo umani. Mi sa che oggi il messaggio di Pepe è proprio questo, restiamo umani. Umani vuol dire comunicazione, vuol dire ascolto, vuol dire dialogo, cioè eliminare guerra, eliminare, non erigere mori, eliminare questa possibilità di riuscire a scoprire. Direi che questo è un significato. grazie. Grazie. Mistero della fede. Annunziamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta e continua a radunare a te il popolo che da un confine all'altro della terra offre al tuo nome il sacrificio perfetto, nella notte in cui fu tradito.